In pochi giorni, 7.000 contatti sul web. Stanno a decretare che il video Daydreaming Ravenna, presentato all'anteprima londinese del Festival, è già un successo. Il video, girato su Commissione di Ravenna Festival, è stato diretto in collaborazione tra Alberto Gielpi e Richard Davis ed è stato nel 25% dei casi cliccato da altri paesi, in primis Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Il progetto creativo è di Michaela Bandini per Can't Forget Italy, un video che punta a promuovere Ravenna come straordinaria metaturistica. La Ravenna è una carta vincente, me ne sono accorta guardando quel video con gli occhi degli inglesi e degli operatori turistici che erano lì in quel momento, a questa grande riunione, a questo grande convegno, il più grande di questo momento nel mondo, sul turismo, e mi sono accorta del silenzio, esattamente come è successo stamattina, del silenzio che è calato e io stessa mi sono trovata con le lacrime agli occhi perché vedevo la mia città con gli occhi di chi non la conosce e mi sono detta ma abbiamo abbastanza meditato sul valore, sulla bellezza di questo capolavoro che abbiamo sotto mano perché è un capolavoro unico, prezioso, piccolo, percorribile e basterebbe che un pochino di gente di buona volontà ce la mettesse tutta perché qui avvenessero dei miracoli perché i miracoli in realtà ci sono già. Che cosa si può fare ancora per rendere, diciamo, divulgare l'immagine di Ravenna? Intanto si può stare tutti insieme come si è visto stamattina dove gli alberiatori, gli imprenditori, il presidente dei bagnini, dei più bei bagni che abbiamo sul nostro vettorale che sono quelli di Cervia, di Milano Marittima, eccetera, tutti presenti, tutti insieme perché si parlava non di un programma artistico del festival ma si parlava di un motore che è il festival che potrebbe veramente essere quel treno ad alta velocità dopo tanti anni sperimentata che può offrire una chance a tutti quanti però anche noi del festival abbiamo bisogno di suggerimenti, di compagni, di viaggio, non possiamo viaggiare soli, ecco la nostra Ravenna, la nostra Romagna, diciamolo meglio perché Ravenna da sola non basta, la Romagna con tutto il suo territorio che è spettacolare perché noi siamo come una Camargue mentre la Francia ha la sua Camargue, l'Italia ha la Camargue qui a casa nostra nella valle, nella laguna, Comacchio, la Cava del Gesso, dicevo prima, Brisighella, le colline fantastiche con un trekking eccezionale che appartiene a pochissimi, il mare, il mare, un porto, una d'Arsen attraverso il quale si potrebbe arrivare a Ravenna. Se ci mettiamo tutti insieme affinché, piano, anche con, voglio dire, senza pensare chissà mai quali transatlantici, ma con un sistema, un piccolo sistema funzionale, ma qui succedono dei miracoli straordinari.